Era stimolata, forse aveva capito che aveva toccato veramente il basso, quindi la volontà di riprendersi un po' in mano la vita c'era. E poi purtroppo il destino, se si vuol chiamare destino, ha voluto che finisse così. Sara Smaila, ritrovata senza vita, seminuda all'interno di un casolare accesa lo scorso sabato mattina, era pronta ad iniziare un nuovo percorso in una comunità di recupero a Badia San Salvatore, gestita dal CEIS. La giovane, seguita dal CERT, dallo scorso ottobre era ospite residenziale della comunità di città di Castello, da dove si era allontanata il 5 marzo. Si è fatta rivedere qua, presso la nostra struttura, il mercoledì e appunto il mercoledì è stata accompagnata a casa dai familiari, accompagnata da una collega, da un'altra operatrice. Il giovedì io ho visto Sara e era tranquilla, era abbastanza serena, convinta di intraprendere questo nuovo percorso. Ma purtroppo sappiamo che la via della tossicodipendenza, anche questa, sei molto instabile, un giorno penso una cosa, in un momento un altro, quindi la sera purtroppo è scappata da casa e è andata così. Gli operatori della struttura avevano pensato per la giovane al trasferimento in un'altra struttura per tentare di allontanare così Sara la città di Castello e Arezzo. Per distaccarla da certe amicizie, se si possono chiamare amicizie, e quindi la decisione, ma anche lei era convinta di questa cosa, appunto, che le facesse bene distaccarsi un po' da questo ambiente qua. Era proprio convinta, diciamo, di rimanere, solo che in certi momenti risale, diciamo, il desiderio della droga e a volte diventa anche una forma altamente compulsiva che non riescono nemmeno a frenarsi, nemmeno loro, anche se vorrebbero. La droga a volte è anche questo rendere la persona così fragile e così debole che ci va incontro sapendo che si fa del male e però è più forte di lei. Intanto proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri di Arezzo alla ricerca dei due pusher magrebini, entrambi con precedenti pespacoli stupefacenti che si trovavano con Sara. I due sono fuggiti e si sono resi irreperibili. All'interno dell'appartamento in cui la giovane è stata ritrovata cadavere sono state trovate tracce di marijuana fumata, bottiglie di birra ed una scatola svuotata di antidepressivi. A stroncare la vita della giovane potrebbe essere stato un mix di sostanze assunte, ma sarà l'autopsia che verrà eseguita nelle prossime ore l'esame tossicologico a stabilire la causa della morte della ragazza.